Domani, mercoledì 22, a partire dalle ore 15, nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino, si terrà un incontro pubblico organizzato dal Comune di Napoli sul tema l'educazione al tempo della crisi, per discutere sugli orizzonti dell'istruzione e della formazione e sulle strategie di interazione col mondo del lavoro. Fra i relatori anche Marco Rossi Doria, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione e dell'Università. Da metà febbraio fino al 18 aprile, le scogliere e le spiagge cittadine saranno interessate da un piano di disinfestazione contro i topi. Il piano si articolerà in più interventi e l'accesso ai luoghi sarà temporaneamente vietato. In occasione del periodo di carnevale, il sindaco De Magistris ha emesso un'ordinanza a tutela della pubblica incolumità, che fino al 26 febbraio vieta, fra le altre cose, la vendita e l'uso di bombolette spray imbrattanti o irritanti. Ogni lunedì al PAN, in via dei Mille, l'associazione Nati per leggere propone l'iniziativa Milleuna Storia, laboratori gratuiti di lettura per bambini da 0 a 9 anni. Gli incontri strutturati in base all'età dei partecipanti vanno prenotati all'indirizzo info-1000astoria.net.